Gli ampi spazi verdi certo non mancavano ma la loro destinazione insieme al colpo d'occhio offre oggi tutt'altra prospettiva. E' scattato ufficialmente il conto alla rovescia per la conclusione dei lavori al parco tematico di Capodiponte che grazie ai fondi investiti dall'Unione dei Comuni Civiltà delle Pietre pari a circa 1.200.000 euro rinasce ora nuova vita ed è pronta ad offrirsi non solo ai turisti ma anche e soprattutto alla gente camona. Decine di giochi riservati ai bambini, una pista ciclocross, un campo da beccivolle e l'immancabile zona feste ma anche anemometri, scivoli e giochi d'acqua con la possibilità di implementarli. Questo possiamo dire che è forse l'unico progetto che vede impegnati i famosi fondi ODI quindi quelli che i comuni con termini dei comuni confinanti dell'Unione Civiltà delle Pietre hanno deciso unitariamente di investire in questo luogo. Noi ci auguriamo come Unione che questo impegno che ha voluto e ha visto l'intento di tutti e cinque i comuni perché anche Braone era con noi quando è stato deciso di portare avanti questi lavori ci auguriamo che ci sia il giusto riconoscimento da parte dei cittadini e mi piace sottolineare il fatto che anche le associazioni dell'Unione avranno delle agevolazioni sull'utilizzo dell'area feste e quindi un'attenzione a loro e ai cittadini residenti. L'urgenza pubblicato il bando è ora quella di trovare al più presto un gestore. Se il progetto partirà come deve troverà a fianco a noi un gestore che ci aiuterà quindi a soddisfare appieno i nostri sogni. Finalmente siamo ormai prossimi alla conclusione l'approvazione dello schema di contratto per la gestione nella prova e nei prossimi giorni usciremo anche col bando dove speriamo che arrivi un gestore per poter valorizzare al meglio quest'area. I ringraziamenti vanno anche a chi ha preceduto me ma a chi è stato anche presidente dell'Unione prima che sono Elena Broggi e Francesco Manella che hanno creduto in questo progetto inizialmente che come abbiamo detto è stato fatto in sinergia tra tutti i comuni è un progetto appunto dell'unione dei comuni e quindi non possiamo che essere contenti per aver fatto questa grandissima collaborazione.